Stefano Patronelli, un commento su queste elezioni europee, circa in particolare il Movimento 5 Stelle tra la circoscrizione nord-est e quello che è stato il dato del floro di Venezia Giulia in calo? Beh, certamente deludente sotto tutti i punti di vista, deludente nel risultato complessivo, poco sotto il 10%, i risultati non sono ancora definitivi ma più o meno questo è il quadro, con nemmeno al sud una reale tenuta rispetto alle elezioni politiche e nord-est, Friuli Venezia Giulia, nord in particolare, il dato che si ripete è molto difficile per la mia forza politica. Speravamo in una tenuta maggiore al sud in particolare, anche se l'affluenza differenziata, il sud perde molti punti percentuali di affluenza rispetto alle politiche rispetto al nord, poteva penalizzarci e ne eravamo consapevoli. Ad ogni modo questo è il risultato e bisogna prendere atto del voto degli italiani.